e bello a tutti lanatori sono Gio e bentornati su un nuovo video di pokemon go bomberoni oggi domenica 27 novembre ieri sono stato alla games week grazie mille a tutti voi che mi avete salutato ragazzi eravate veramente in tantissimi ma appunto oggi coge entriamoci su questi raid dei delle ultra creature perché dobbiamo abbiamo anche missioni missioni speciali missioni a tempo raga tantissima roba entriamo in game vediamo cosa c'è nei paraggi e allora bombers eccoci qua allora 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 abbiamo un nichi lego qua nichi la tensione però shiny check tutto in niente le apine le apine no no le apine che le sto sempre cercando ragazzuoli ma queste apine qua non vogliono uscire comunque sì adesso raga veramente bellissimo questo parchetto perché tutto giallo le foglie bellissimo bellissimo allora qua abbiamo un nichi lego vediamo raga perché ho qualcosina prima mi avete già invitato un compagno cosmico che qua devo completarla io raga non c'entra una mazza arrivano le ultra creature eccola qua ragazzuoli allora praticamente avevamo questi qua sette missioni praticamente vinci sette raid dobbiamo vincere sette raid raga e l'abbiamo completata io infatti ne ho già fatti due mi avete già invitato a due raid che ho trovato anche un 96 per cento raga scrivetemi adesso secondo voi quale delle ultra creature mi avete invitato e ho trovato il 96 per cento sotto nei commenti adesso raga non smirciate mi raccomando allora qua dobbiamo fare ancora cinque raid raga quindi ma io adesso vedo perché perché dov'è ah ma qui raga qui sotto mi manca lui mi manca lui cacchiarola che me lo stavo dimenticando infatti questa qua possiamo semmai prendercela allora le ultra creature stanno apparendo più frequentemente gli allenatori sconfiggono un'ultra creature in un raid più pokemon selvatici appaiono nei pressi della palestra raga quindi questo è tanta roba 25 punti 25 per cento di punti esperienza in più dai raid ultra creatura abbiamo a disposizione la ball raga ma dopo andiamo a vedere quando ci accingiamo alla cattura di queste ultra creature abbiamo a disposizione la ball delle ultra creature ottieni fino a cinque biglietti raid gratuiti quindi mi avete invitato da remoto raga voglio almeno utilizzare qualche biglietto da presenza insomma caramella rara l aggiunti molto bene molto bene ragazzuoli ok pensavo che c'era però tipo una una sfida di collezione raga di queste ultra creature invece no invece no da un lato diciamo anche meglio ma io quasi quasi raga andrei aprirmi immediatamente poche tonji qualche almeno dopo posso prendermi altri poche stop e vediamo cosa ci spunta fuori questo mese abbiamo stario ragazzuoli che è possibile shiny quindi attenzione ma come ma come ma come ancora lui ma come ancora ma ma no ma no allora novembre ho sbagliato qualche calcolo raga non doveva essere forse da dicembre ma ma chi lo sa ma chi lo sa chi lo sa qua u attenzione attenzione sol rock niente sol rock niente abbiamo anche un moon moon caccherola questo moon apine apine spettacolo raga spettacolo il mio parchettino qua cioè spawn molto molto interessanti a questo punto visto che non abbiamo la sfida di collezione di andare a sfidare un po tutte le ultra creature raga io vado su quelle che mi interessano vado su quelle che mi interessano in questo caso ne ho una qua andiamo a fare questa qua così almeno utilizzo il pacchetto il pacchetto il pass giornaliero allora quasi 50.000 ok nichi lego me lo ricordo bene adesso sì e dai e dai e eccoci qua siamo dentro in due io e oscar ragazzi in duo contro nichi lego attenzione perché col tempo dovremo esserci dentro non ricordo se l'avevamo già fatto in passato raga in due boh comunque sia da quel che vedo riusciamo benissimo ottimo ragazzone ci vediamo dopo al check ci siamo ci siamo ci siamo raga ci siamo raga dai dai 20 secondi dovrebbe riuscirci dai oscar porca miseria dai dai e giù cosa oh finalmente raga ma porca di quella miseria cioè non voleva scendere quando manca sempre un pelino lì sembra che non scende mai non scende mai mettiamoci un attimino comunque sia al sole raga anche se c'è un riflesso assurdo allora quelli che ho catturato prima raga in precedenza sembravano veramente facilissimi la cattura infatti le ho presi tutti con due tutti due con bacca ananas sono stati dentro al primo colpo così almeno ho raddoppiato le caramelline attenzione dai eccole qua molto bene avete preso comunque sia anche il modulo esca raga dal negozio mi raccomando prendetelo prima che scompare tac check 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 non può essere shiny 27 39 bustato raga bustato molto bene vediamo se riusciamo a prenderlo insieme al primo colpettino raga allora della porca di quella miseria c'è sì ok ok un ottimo l'abbiamo fatto un ottimo l'abbiamo fatto dai no questa volta non rimane dentro al primo colpo raga mi fa smentire cioè boh non so come mai tac secondo ottimo magari prima poi avevo fatto anche eccellente adesso ormai con la telecamera anche in mano raga ok e infatti vedete che al secondo colpo ottimo comunque sia ancora facilissimo 6 caramelle e 4 l tantissime raga molto bene molto bene dai no 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 27 39 fa veramente pena 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 attenzione attenzione il mincino qua che non so che cacchio c'entra cosa serve ah ma adesso dovrebbe esserci più spawn vicino a questa palestra perché abbiamo fatto il ride quindi teoricamente qualche invita ancora proviamo a entrare proviamo a entrare dovrebbe esserci per tot minuti questo spawn esagerato chiamiamolo così intorno alla palestra dove appunto adesso abbiamo effettuato il ride allora raga io quasi quasi facciamoci questo qua e dopo vediamo un attimino come siamo dove siamo arrivati con le missioni come siamo mensili e tutto e voilà ragazzuoli eccolo qua già preso al primo colpo come avete visto quanto erano 20 57 esatto raga esatto eccolo qua preso con 15 di attacco però purtroppo così non mi serve a niente non mi serve a niente attenzione abbiamo qualche furettino niente yangoos ma queste qua le avevano già cliccate penso di sì erano quelle di prima nera io le prendo sempre ah lì è uscito un altro niki lego ancora raga il bonus è attivo immagino che si intendano raga quello dello spawn provo comunque sia avvicinarmi un attimo vediamo cosa esce comunque sia è mezz'oretta dovrebbe essere ah qua prendiamoci prendiamoci qui raga abbiamo anche un pokemon molto bene molto bene che chi è chi è chi è chi e dai stario eccoci 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 andiamo qua vicino allora raga forse da qua già prende dai 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 ferromosa ferromosa che dovrebbe essere eccolo lì il pass dovrebbe essere anche diciamo tra virgolette regionale qua da noi raga perché ad esempio in america al posto di ferromosa possono trovare buzzwall l'altra ultra creatura allora invito raga e dai un altro check comunque sia la mia posa raga questa qua devo cambiarla perché sembra che me la sono fatta addosso non mi piace proprio boh dovrò andare poi a switcharla voi quale avete ed eccolo qua appena catturato raddoppiato cioè con tutti raga ho raddoppiato con tutti con tutte le ultra creature ditemi se anche voi siete andati con bacca ananas o con la dorata qua convenio veramente con l'ananas raga perché stanno dentro alla prima cioè o a un pochettino come avete visto prima due tre tiri però bene o male si riesce a prenderli con ananas eccolo qui allora ferromosa 2000 punti lotta spaccati è un tre stelle sì raga però purtroppo non è forte attenzione attenzione qui in giro che abbiamo spawne assurdi adesso che abbiamo fatto quindi quasi 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 raga entro a quest'altro ferromosa dai dai riusciamo 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 non ho visto il tempo il countdown il countdown dai 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 due ore e 43 il ride molto bene berto siamo dentro dopo appunto raga guarda un attimino questi spawn perché a furia di far ride 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 questo qua dovrebbe anche essere l'ultimo che mi serve per completare la ricerca a tempo chiaramente dopo ancora biglietti gratis ottenibili tramite le palestre quelli giornalieri arancioni però appunto oggi ne avevamo cinque raga sei con quello giornaliero in più sette con quello di ieri cioè si potevano fare sette intanto qua iniziato il ride io ero qua a parlare si potevano fare sette ultra creature raga con i biglietti gratis arancioni tanta tanta roba dopo chiaramente io non è che li lascio qua buttati andrò a farne ancora qualcuno un po' così raga semmai off camera allora qua 280 secondi ma va giù alla grandissima come potete vedere cioè tra dieci secondi e giù e infatti eccolo qua 16 19 punti lotta raga no ma no 98 98 ma porca di quella miseria raga questo qua poi è un palissimo perché a 14 in attacco ma no ma no però raga il mio sicuramente attualmente più forte quindi teniamolo lì teniamolo lì qua in giro no no è scappato che avevo messo il segnalino allora qua abbiamo ancora tanta roba raga quindi mi faccio adesso un giretto vediamo cosa è spawnato grazie a questi ride delle ultra creature che appunto intorno alle palestre per 300 metri dovrebbero essere più frequentemente dei pokemon stiamo a vedere ragazzuoli comunque sia dovrei aver completato qua dov'è di qua tre volte tre evoluzioni vabbè ok qua completato raga molto molto bene ancora tre ore 38 per riscattare il tutto dopo chiaramente andrà a farsi benedire la missioncina lì qua comunque sia devo trovare raga il Saint Stryu il Saint Stryu che non esce non so dove andare a cercarlo proverò comunque sia semmai in serata a mettere qualche aroma qualche modulo esca semmai a casa anche quello che ci ha regalato Niantic che può venire veramente molto comodo staremo a vedere dopo ragazzuoli comunque sia fatemi sapere voi bomberoni se avete trovato shiny in questa giornata di ride day delle ultra creature o in alternativa anche magari un 100% non si sa mai eh raga anche perché il mio 98 oggi me lo sono portato a casa molto bene molto bene allora qua vedete c'è spawn 0 raga 0 ma dov'è questo spawn aumentato non lo so sicuramente dovremo tornare nei pressi della palestra però non penso proprio sotto sotto allora raga prendiamoci qua ci prendiamo qui non so non mi sono spoilerato nulla non so cosa ci può uscire da qua se sono le ultra creature se sono pokemon possibili shiny non lo so andiamo con la prima dai sono sette quindi esattamente raga esattamente sette ah non si può andare a prenderle con le bacche no ma no io volevo andare già con ananas porca miseriaccia e non abbiamo bacche non abbiamo bacchine raga allora questo qua è allora mettiamoci qua un attimino tac 1666 eccolo lì il 666 ce l'abbiamo porca miseria tac un bel eccellente molto bene raga quindi sono sette immagino tutte le ultra creature michi lego preso preso no 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 cacchierola dai un po' più fuori un bel 100 almeno da queste missioncine qua dai un buzzwool un zurchi 300 eccolo qua 100 100 1656 li catturo raga poi li valutiamo ok allora non li valutiamo li valutiamo dopo ragazzuoli terzo chi è ferro bosa 12 10 ok quarto quarto chi è buzzwool eccolo qua bellino lui mi piace parecchio raga cos'è un 1455 vi ricordo allenatori che da queste missioni se trovate shiny se trovate queste ultra creature non possono scappare dalle missioni non scappa niente ragazzuoli invece selvatici lì chiaramente sì allora 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 siamo arrivati ecco dai dai 555 gazzlor è l'unico che non volevo vedere sesto sesto cartana bellissimo lui che se non sbaglio dovrebbe essere ancora questo cerchio minuscolo raga eccolo lì stavo dicendo dovrebbe essere ancora il miglior tipo erba del game se non sbaglio e dopo il secondo venusaur o magari a pari merito con mega venusaur raga chi di voi si occupa di pvp magari più esperti fatemi sapere ultima celestila eccolo qua raga celestila quindi li abbiamo visti tutti c'è da dire però una cosa che questa ball raga è veramente stra super efficace contro queste ultra creature cioè è la loro ball però c'è da dirlo veramente che super qua attenzione attenzione franco ferromosa da napoli non entro attualmente shiny check magmar e qui possiamo completare raga arrivano le ultra creature tre ore e dodici minuti prima quasi quasi non è mai successa una cosa così di completare tre ore prima una missione raga sapete che io mi riduco sempre all'ultimo quindi qua l'abbiamo messa in fondo in fondo arrivano le ultra creature quante ce ne arrivano le ultra creature allenatori è arrivato il momento che tutti voi stavate aspettando andiamo adesso come ultima cosa a riscattare il codice promozionale attenzione allenatore allora solamente per il codice vale per allenatore e quindi non potete riscattarne due tre quattro solamente una volta a allenatore e vi ricordo attenzione raga questo codice è valevole fino alle 23 e 59 del 30 novembre non un minuto di più se lo riscattate a mezzanotte penso proprio che non vada e quindi mi raccomando allenatori sono i codici riscattabili tramite le live che ci sono in questo momento raga in queste giornate sul sito ufficiale di pokemon go che stanno facendo appunto queste live pazzesche guardate qualcosina raga perché sono molto interessanti anch'io che non faccio pvp mi appassiono guardo è molto bello molto bello e lì c'erano questi codici riscattabili entro 15 minuti raga ma nessuno ce la faceva e quindi adesso hanno messo questo sistema qua fino al 30 di novembre questo codice infatti riscatta riscatta dai 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 boh ha dato qualcosa raga ma porca di quella miseria ci andiamo indietro vediamo 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 eccola qua complimenti complimenti hai ottenuto un premio 26 novembre 2022 eccola qua raga se mi raccomando prendetela perché riscattando il codice vi da appunto anche questa medaglietta che è tanta roba molto esclusiva è allenatore molto molto esclusiva tramite appunto un semplicissimo codice e infatti eccola qua la missione la troviamo sotto oggi è una missione a tempo anche questa qua l'ho riscattata adesso io raga tre giorni e otto ore non so se appunto magari la riscatto domani mi da sempre su queste tre giorni e otto ore oppure raga che diminuisce sempre di più quindi mi raccomando riscattate il codice prima possibile allenatori dunque questa giornata di ultra creature si sta svolgendo quasi al termine io adesso quasi quasi andrei a fare ancora quei due o tre ride che mi mancano con i biglietti giornalieri gratuiti messi oggi a disposizione fatemi sapere voi bomberoni se avete partecipato alla giornata di ride delle ultra creature e se avete riscattato il codice promozionale per oggi bomberoni da gamer joe è veramente tutto mi raccomando l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video era che vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like gamer joe vi saluta e ci vediamo alla prossima ciao bombers